allora moschettone nastro anellato un cameriere posizione cameriere ripartire ok tessuto non lo metto come se fosse una pace mila più o meno a un quinto giro il tessuto in questo modo la parte più lunga la chiamo la madre prendo la madre con la mano me la porto al cuore così creando una casetta inserisco il moschettone nella casetta inserisco l'anello sul nastro anellato quindi i due inserita a questo punto stesso il nodo è stretto perfetto non c'è problema il nodo è finito per liberare quando dovete pulire l'amaga tirate il figlio togliete il moschettone così tirate eccolo libero ok 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 ok